Migranti, 8 sbarchi con 290 in due ore a Lampedusa, ieri 18 approdi in totale con 649 persone. Sono 290 i migranti che con 8 imbarcazioni sono arrivati ieri sera fra le 22 a mezzanotte a Lampedusa, 18 con un totale di 649 persone. Gli approdi di ieri nell'arco di 24 ore, nella tarda serata, non ci sono stati soltanto soccorsi in mare aperto ma anche rintracci sulla terraferma. 51 tra cui una donna sono stati bloccati infatti dai carabinieri sulla costa di Maremorto, sequestrato il natante di 8 metri partito da Alclomos in Libia usato per la traversata. Sulle carrette soccorsi a largo c'erano invece 19 persone, una donna e 5 bambini, 38, 6 donne e un minore, 43, 9 donne e 4 minori, 46, 3 donne, 38, 8 donne e 8 e 47 fra i quali 4 sopravvissuti ad un ennesimo naufragio ripescati dai 43 migranti che erano in viaggio verso Lampedusa. Tutti i 290 migranti hanno dichiarato di essere originali della Tunisia, Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea, Gambia, Burkina, Paso e Camerun. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS